SILENTO 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 Wow! Era chiuso! Bella tenuta! Di certo non è il mondo degli uomini dell'esercito Aiuto! Aiuto! Resta qui, Leo Vado a vedere se riesco a dare sciaccomatto a quei perdenti Meglio aiutarlo Aiuto! Ah, ben fatto ragazzina Ora dobbiamo cercare di uscire di qui Guarda in alto Quella freccia fa proprio a caso nostro Oh! 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 Whoa! Oh! Oh! Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Wow. 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 Cancello. Cancello. Cancello.